E' ritornata la piccola moto rossa che ci ha sempre accompagnato nei periodi in cui eravamo poveri nella vita in città Quindi dobbiamo superare i 12.000 mi piace Saluto Sofia, Miki e Kevin Scrivete nei commenti hashtag minecrafted per essere salutati dai nuovi video Se siete nuovi iscrivetevi al canale col tastiero su qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche E superiamo i 12.000 mi piace per un nuovo video sulla vita in città Ragazzi benvenuti a questo nuovo video sulla vita in città Oggi dobbiamo fare un sacco di cose, dobbiamo costruire, dobbiamo mettere mobili, arredare stanze, un sacco di roba Ma perché siamo dietro casa mia? Perché l'ultima volta abbiamo scoperto che qua sotto si nasconde un bunker di una persona molto cattiva del ladro dell'IKEA Quindi per tenere d'occhio la zona ragazzi guardatela in alto cosa ho messo Ho messo due telecamere che sono collegate alla mia zona da gaming o ai miei computer della mia casa ragazzi Perché ovviamente per chi non lo sapesse sono riuscito più o meno a comprare casa negli ultimi episodi E con queste telecamere sono collegate al mio classico monitor Che servono appunto per controllare la zona Per controllare magari se qualcuno si muove O se qualcuno provasse a rubare la jacuzzi Perché mi avete detto Marco mi raccomando stai attento perché c'è la jacuzzi fuori da casa Bene sì ragazzi L'ho lasciato apposta lì Perché nel caso il ladro volesse rubare Possiamo controllare appunto se fa sparire la jacuzzi Se se la porta da qualche parte Poi ho messo due telecamere che hanno due movimenti completamente diversi Perché intanto possono controllare quando una guarda a destra l'altra guarda a sinistra Quindi meglio di così ragazzi non si può Poi l'ultima volta mi avete fatto praticamente un bel po' di domande Per quanto riguarda Un bel po' di diciamo di proposte Per quanto riguarda l'IKEA Lavoro da marci e altre cose E tanti di voi mi hanno chiesto di comprare un nuovo negozio Al che ho pensato potrei farlo ma non ho soldi Quindi vorrei chiedere prima da parte vostra una cosa veramente molto importante Perché alcuni di voi durante anche le live mi hanno proposto una pazzia ragazzi Questa è una vera e propria pazzia Tanti mi hanno proposto di comprare il negozio di Amazon Beh ragazzi allora parliamoci chiaro Comprare un negozio di Amazon e avere anche IKEA è davvero i matti Cos'è sto coso? Oh cavolo! Ehm ragazzi c'è un cinghiale in giro per la vita in città Mmm lasciamo perdere Comunque dicevo tanti di voi mi hanno chiesto di comprare Amazon Perché visto che ho gestito molto bene IKEA E con tutti quanti i suoi prezzi l'ho fatta crescere L'ho fatta valutare molto di più Mi hanno detto che potrei comprare Amazon e migliorarla ancora di più Però costa tanto ragazzi Quindi dovrei scegliere se vendere l'IKEA e comprare Amazon Oppure rimanere come siamo Al che ho pensato Vorrei chiedere a voi ragazzi qua sotto nei commenti Cosa volete fare? Siete team Amazon o team IKEA? Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti Oltre all'hashtag minecraftita per essere salutati in un mio video Anche il team di Amazon o team IKEA So che tanti tanti di voi Qua c'è ancora la mia macchina Sono affezionati all'IKEA Però tanti ragazzi mi chiedono di comprare Amazon Vabbè comunque lasciamo perdere Questa cosa qui ci pensiamo in un altro momento Ora andiamo prima all'IKEA a riscuotere i nostri soldi A pagare anche i debiti Perché alla fine riusciamo finalmente oggi a toglierci Tutti i debiti in più che abbiamo di IKEA Oltre che al mutuo Poi dobbiamo andare anche da Gabby A rifare il suo ufficio Visto che dovrebbe pagarci tecnicamente O oggi O sabato E poi dobbiamo andare a fare anche il piano sotto di Marci Ok? Con calma ragazzi Oggi abbiamo da fare davvero tante tante tantissime cose Quindi muoviamoci Andiamo di qua Allora salve Corrado Allora Prendiamoci i nostri soldi Come sempre dividiamoli in 5000 soldi per il mutuo Più i 1700 di gestione E li mettiamo tutti quanti 50 qua 1700 qua Poi di qua mettiamo anche i 2000 del mutuo della casa E ci rimangono 1.300 Nel portafoglio ragazzi abbiamo esattamente 21.170 Il debito che abbiamo in più con l'IKEA è di 13.600 E io voglio estinguerlo completamente Quindi facciamo una cosa Mettiamo via qua il nostro foglio 13.600 euro Addio foglio del debito ragazzi Erano 3 mesi che avevamo questo foglio del debito E finalmente se n'è andato Ma ragazzi anche noi dobbiamo mettere via 13.600 euro Quindi prendiamone un bel po' Qua dobbiamo prendere esattamente 10.000 Che li facciamo con dei pezzi così da 36 Quindi questi qua sono 10.000 Possiamo direttamente lanciarli dentro al debito E finalmente dopo mesi e mesi Siamo riusciti a sdebitarci con l'IKEA Ora abbiamo soldato un mutuo che più o meno dovrà scadere tra un mese e mezzo Se non mi sbaglio Però finalmente ci siamo tolte le scatole un bel po' di spese inutili Allora intanto quanto abbiamo nel portafoglio? Abbiamo esattamente 7.200 Senza contare i soldi che abbiamo in più da prendere da Gabby E in più mi sono dimenticato ragazzi Prima di andare a fare tutti quanti i lavori Di togliere qua i 2.000 dal debito della casa Non dovevo parcheggiare assolutamente dentro al negozio dell'IKEA Allora partiamo prima dal lavoro da Gabby Perché da marci i mobili sono già pronti tutti quanti sotto In realtà ho letto anche i vostri commenti E molti di voi erano favorevoli alle mie idee anche per il muro Diciamo che eravate più o meno tutti quanti d'accordo Avete fatto dei commenti veramente molto belli Vi ringrazio Allora prima di andare a vedere se nel negozio di Gabby c'è la famosa Cesco i soldi Perché se no mi devo arrabbiare per 10 Dai Gabby Vabbè allora va bene mi devo arrabbiare Mi dovrò far pagare il doppio La prossima volta che mi incontro con Gabby Perché lui ogni volta non mi dà i miei soldi Ma cosa sto aspettando Allora ricostruiamoli quindi l'ufficio Anzi no facciamo una cosa L'ufficio solo ricostruisce lui ragazzi Rimettiamoli qua la cesta E lui si arrangia tutto quanto Guarda gli metto via tutte le cose per bene Magari il monitor ce lo teniamo Toh Gabby questo qui sono i tuoi mobili oggetti dell'ufficio Ricostruisciteli perché io non ne voglio più sapere niente a che fare Ragazzi non so se la prossima volta potrò accettare altri lavori da Gabby Ovviamente scherzo Però quanto mi devo far pagare secondo me da Gabby Anzi qua sotto nei commenti scrivetemi una cifra Per cui io dovrò chiedere a Gabby Quell'umero esatto di cifra altissima che mi chiederete qua sotto nei commenti Perché mi dovrò pagare veramente tanto per fare altri lavori Ma ora abbiamo il lavoro principale di questo video da portare a termine Perché ho preparato i mobili della zona del McDonald E purtroppo una cosa non riuscirò a farla Ma adesso vi spiego ragazzi Prima di andare praticamente giù Devo andare a prendere sicuramente dentro la chest famosa Il glass Che già avevo messo io perché Mi aveva chiesto di riparargli questa vetrata Che qualche tempista aveva rotto Quindi vediamo qua Allora tempista qua aveva distrutto qualcosa Ok In più Marci mi aveva chiesto di fargli un bagno in questa zona Ma ragazzi Cioè capite insieme a me Che ditemi voi io a Marci Dove diamine costruisco un bagno in questa zona O tolgo questi tavoli con i clienti Oppure li costruisco un bagno dentro al po Quindi cosa ho pensato ragazzi Se questo video arriva a 15.000 mi piace Io costruisco a Marci un bagno con la vista sotto al po È una cosa difficilissima È una cosa impossibile Non lo so Però io mi sono chiesto Ma dove diamine lo faccio io un bagno a Marci qua sotto Non posso farlo Quindi vediamo se arriviamo a 15.000 mi piace Allora Intanto qua sotto ho preparato la zona Qua ho fatto invece una zona bagno Che ci stava molto bene secondo me qua Allora Qua ho preparato già due porte del saloon Perché secondo me stavano molto bene qua così Giusto per la zona bagno Magari cerchiamo di piazzarla anche decentemente Ehm Dove è la Eccola qua la mia bellissima ascia Allora distruggiamo questa porta E mettiamola per bene Allora qua e qua Ok così una persona si avvicina E va in bagno Magari non è la cosa più conveniente Bella Però mi sembrava carina Poi mettiamo qua la zona gabinetto Qua mettiamo il rubinetto con lo specchio Quindi uno qua E uno qua Ok Mi sembra molto molto semplice Niente di troppo esagerato Ci può stare Poi abbiamo tanti tanti mobili ragazzi In realtà qua da parte Abbiamo blocchi Mobili Roba per cucinare Tavolini e sedie Allora Come l'ho pensato io Qua in fondo ragazzi Un bel muro da quattro così Con una bella trapdoor Poi se ho dimenticato anche qualche mobile Lo vado a prendere dopo Nella zona dell'IKEA Poi ho pensato di mettere Sei forni Appunto come ce ne sono Nei piani di sopra E poi Una Una lavastoviglie Qua al centro Questo ovviamente serve Perché quando una persona cucina Con tutti quanti gli utensili Ovviamente deve lavare le cose Purtroppo la cappa non ci sta ragazzi Perché devo mettere il menu Menu che ho già messo in giro Appunto per la zona qua dell'IKEA Quindi lui tecnicamente qua sotto Potrebbe anche assumere qualcun altro di nuovo E sbloccare magari qualche stella in più Perché assume altri dipendenti nuovi Secondo me questa cosa qui ci sta molto molto bene Poi abbiamo con noi Tavolini Hamburger E sedie Allora Come l'ho pensata ragazzi L'ho pensata così In questa zona Mettiamo i tavolini doppi Quindi qua tavolino doppio Non l'hamburger per terra Che poi arriva l'asl E ci fa del male Allora qua mettiamo via i tavolini Uno due Poi altre sedie In questo modo E tavolini così Ok qua secondo me È una zona molto tranquilla Dove magari le persone a coppie Si possono mettere O magari un gruppo di persone Poi di qua mettere un tavolo singolo E di qua mettere Uno due E due tavolini in questo modo Poi altri due tavolini E altre due sedie Questa chest qui ovviamente Dovrebbe sparire Quindi a questo punto Distruggiamola Del tutto Quindi cara buona chest Se ne va da uno E se ne va da due Beh direi che per questa zona qua Ragazzi credo che abbiamo terminato Metto qua e là Qualc'hamburger Magari anche nella zona cottura Magari non sopra La lavastoviglie Quindi uno qua Uno qua E magari uno su questo tavolo E uno Anche su questo tavolo Sopra Nella chest qua Dovrei avere anche Dei blocchi in più Dove appunto Abbiamo anche Dei colori tipo Di concrete rossa Concrete giallo E queste cose Per modificare Qualche colore Che abbiamo anche Nelle pareti Perché vi ho detto Che questa M Qui va molto bene Però direi che qua Magari una colonna Di rosso Una colonna di giallo Ci stanno Anche qua Molto Molto bene Quindi andiamo qua Sopra nella chest E qua dovremo avere Appunto Oltre che un'altra Lavastoviglie Uno stack di blocchi Per ogni tipo Vediamo dove possiamo Migliorare ancora un pochino L'estetica del locale Ragazzi E poi Lasciamo tutto quanto Così com'è Perché secondo me Già I blocchi messi In questo modo Stanno molto Molto bene Quindi proviamo a rompere qua Questi blocchi Innanzitutto Vediamo Se tipo per esempio Mettiamo qua Del giallo Del giallo che serve Per staccare Io non capisco perché Come mai Ogni volta Che utilizzo il piccone Si nasconde poi nello zaino Quel danato piccone Poi qua mettiamo magari Anche dei blocchi Di tipo rosso Di concreto rossa Quindi Ne mettiamo altri qua Uno due tre Quattro Fatti in questo modo Sì Non è niente di così tanto Esorbitantemente bello Però magari servono anche Un pochino per staccare Ragazzi Non è che sia una cosa Così tanto bruttina E poi Magari qua Facciamo anche l'angolo Qua lasciamo un angolino In questo modo E magari Mettiamo un altro Di questi qua Di questi Cosi per l'acqua Bello Ci sta così l'angolino Ma ragazzi Vi dirò Come stanza È molto molto carina Magari non è particolare Però è molto molto bella Ora Andiamo un attimino Da Marci Che ha detto Che ha bisogno di noi Oh Ma sei già arrivato In gioielleria E mi hai detto Di venire qua Sto aspettando Allora Eh Ascolta Ti ricordi Che l'altro giorno Ti ho dato un sacco di soldi Eh Sì 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 Non è che per caso Potresti aggiungere Un piano di sotto Per questo posto Per favore Pure Eh Mi servirebbe Sì Eh ma qua sono altri soldi Eh signorino Allora 20.000 Ma cosa 20.000 Mi hai dato 12.000 Mi hai dato Che 20.000 Ma non è vero Me l'hanno detto nei commenti Te l'hanno dato un po' A casa mia 64 Più 64 Fa 12 Fa tipo 14.000 Che viene forza Che mi hai dato dopo Eh Poi altri 50 Mi hai dato Non è che mi hai dato altri Ma se c'hai 150.000 Euro C'hai 12.000 Case 2.000 Grazie 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 Allora Senti qua Come lo voglio Bisogna andare giù Di qua Da qui in poi Che sia Il piano di sotto Da tre Che fa così Vedi E poi c'è l'angolo Che va verso il giù Ok E sotto cosa devi metterci Scusami Devo metterci Tutti i gioielli Non botto Ma tipo Questa dimensione qua Deve avere quindi Con qualche mobile Magari carino Perché qua è tutto quanto Spoglio Certo che posso dirtelo Un giralicchia per riempire Sto posto Potevi anche fartelo Possiamo farlo Effettivamente si può fare Vabbè Così da questa parte Così da quest'altra parte Che si congiungono nel sotto Che sarà sotto qua Ok Fai quello che vuoi Ti aspetti Ma devo fare una zona bancone Come è fatto qua No no Perché giù c'è andato Solo i gioielli Quindi tranquillo Ok Non rompere queste cose qui Perché non si possono rompere Ok Vabbè Poi me lo studio io Dai va bene Va bene va bene Quindi Marci ci ha chiesto Un altro lavoro Da portare a termine Nella sua gioielleria Un po' di soldi ragazzi Ce li stiamo facendo In questo periodo Ricordiamoci che ci mancano Come sempre I soldi ancora di Gabby Che se sabato Non me li porta Veramente gli do fuoco Alla sua stazione di polizia Ragazzi Comunque Mettiamo gli ultimi mobili Che sono spariti dall'Ikia Ragazzi Dopo l'ultima volta Quindi mettiamoli qua dentro Poi Mettiamo anche i nostri amici letti Che non li abbiamo più rimessi via Quindi mettiamo tutti quanti Quello viola Quello blu E quello rosso Poi tecnicamente I mobili dell'Ikia Dovremmo essere a posto Cioè nel senso Abbiamo risistemato Tutti quanti i mobili Che sono stati rubati In più ragazzi Il ladro Non lo abbiamo più visto In circolazione Vero Giada Tu non parlerei mai Probabilmente E qua manca qualcosa Mancano probabilmente Gli sportelli Che ancora non sono messi In esposizione Quindi mettiamone uno Qua in esposizione Manca qualcosa Qua in giro No C'è tutto quanto Se non mi sbaglio Marci è ritornato nel server Credo che sia Tutto quanto Super a posto Ragazzi Spero che questo video Qua della vita in città Vi sia piaciuto Vi piace un bel commento A iscrivervi al canale Se avete fatto E lasciate uno Di due video Qua davanti Mi raccomando È molto importante Iscrivetevi Col tastiera Su qua sotto E attivate la campanella Su tutte quante notifiche Scegliete Uno Di due video Qua davanti E da Marche è tutto ragazzi Ciao ciao Ciao